Siamo arrivati E adesso è strano parlare nei vlog E c'è già una fila assurda Quindi bene Aiuto Con la felice Belli i bagni Dai usciamo che c'è puzza Dai Sempre che mi dispiace Non c'è una carta E' stata una spedizione Ciao a tutti C'è un aggiornamento Ci sono andati più avanti nella fila Ci sono provato il cibo La premessa a questo concerto E questo è un piano di regolazione Questa è una fantastica persona Nuova modo di fare i vlog Così parli sottovoce E senti comunque La persona non pensa che sei strana Perché stai solo parlando alla telecamera Però da vicino Com'è la situa? Bella Ovviamente Storto Grazie Sì Sì Come capite se voi siete le ragazze In canale youtube Sì Oddio veramente Sì Tipo sono arrivata e mi fissavo Non so se ti hai visto Invece Pensavo che mi fissi quello male Io pensavo che mi fissi quello male Perché ho buttato per te un passoletto Io ho buttato per te La stagia di mio fanino Sì Sì Siamo noi Come vi chiamate? M8S 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 Pensa se qualcuno magari vede che siamo noi Che sogno Oh raga aspetta cosa bisogna fare qua Mi ha detto la bottiglia per favore Ciao Prendo il posto Prendiamo il posto noi Vai filmate Cosa? Sì Grazie Ciao Siamo entrati ragazzi Abbiamo trovato una ragazza che ci ha riconosciuto a Milano E se questa parte la mettiamo nel blog E se questa parte la mettiamo nel blog E non ti troviamo perché ti abbiamo perso Ciao Dici chi sei Alla mica di Silvia Però non ci perdiamo il tuo nome Sara Sì Sara Sara Naturalmente mi chiamavi Sara Mh E Stiamo cercando Sara Stiamo mangiando le patatine e Guarda questo tipo semplice a Erri Sì Oddio C'è un po' di gente E... speriamo bene James muoviti Pietro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.